Tranquilli, adesso potete andare? Forza, in tavalle, alzare, abbandonate la tua velocina. Ho capito, ma mi sta chiamando la sicurezza? No, Cristian, per favore, il tempo sta passando, non ho tempo da perdere. Allora, ragazzi, porca miseria, allora, a me fare queste cose qua, telecamera accese, provi bene da buono. Allora, se io sono arrivata che lei era già in diretta, No, Maura, 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 non può stare qua con me, perché ne va del suo lavoro, ha capito? Eh, ma mi dispiace che, Maura, ma io le avevo detto che questa soluzione l'avremmo cercata nell'acqua. No, io questa soluzione la devo risolvere, io questa cosa la devo risolvere in questo momento. Ho ancora dieci minuti a disposizione, può andarsene, mi sta facendo perdere tempo. E lei, a star qua con me, rischia, a star qua con me, lei sta rischiando grosso. L'è cavolata per quello che è accaduto ieri. Allora, facciamo una cosa, la previsione l'abbiamo non più tardi, non ha più tardi. No, ma qui tra lei non è il fatto di dare la previsione, non è il fatto, è il fatto che comunque, cioè, se noi la siamo qua da sola, ma il pasto è leone, eh, dai. Ma secondo lei non mi sto a difendere dai leoni, io? Ah, ecco, quindi vada, tranquillo, non si preoccupi per me, che ci penso io a me stessa. Vada. Sì, Maura, prova? Sì, vada. Tranquillo. So benissimo che devo fare. Maura, lei è sicura di quello che fa? Io sono sicura di quello che sto facendo. Oh, uscite anche proprio, grazie. Perfetto. Allora, innanzitutto facciamo passare la prima scritta che vi ho fatto preparare. perché qui...